Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! No dai Cosa devo... No, no dai cagate No, non ti chiederò un bocchino di gusto, guarda Federica non voglio un bocchino di gusto Te dichi un bel... No, 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 no No, 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 no Mi vergoglio una surgia Adesso mi vlogla, se no col cazzo Si, certo, mo devo sganciare i sordi, hai capito? Zitto, zitta Intanto però devo sganciare... No, sistemmo di becchier glo glo, se no, se no, amen, lo vai, va bene Levate sta chatta di merda, guarda Lollino Lollino comunque ti posso dire ti dico solo una frase poi posso sbagliare posso non sbagliare però ti posso dire chi non ha mai peccato scagli la prima pietra no e nessuno la dirà perché hanno tutti peccato perciò io ho fatto l'errore lo ammesso basta penso che non si deve andare poi sul piano sul tutto io sono coraggioso nel mettere questi video ci andrò assolutamente in questa run ora che me l'hai detto timino zane bentornato non è possibile non hai messo donna schiava l'amore chiave è scritto io frantino re dei forni criminali dove dice vai fidarsi di nuovo ma vattene a prendere nel culo porco dio ma vaffanculo voi trez mappiate il cellulare dategli evoco dio merda veramente tagliatevi le braccia dio schifo ma che cazzo ma chi è per essere chiari l'odio per gli uomini di cui scrivo non è reale odio è chiaramente un'esagerazione non è incitamento all'odio del genere maschile roba del genere no infatti è ritardo mentale è ritardo mentale e vi potete far pagare per quest'ultimo fatelo sotto piotte su due volte 100 sattivitate scusate ragazzi ma scusami invece voglio che ma il trattamento è sempre stato così me l'hanno sempre messa nel culo voglio farmi una domanda voi sapete che cosa significa in italiano il termine negletto no onestamente non lo so perché vi siete alzati tutti i ragazzi vuol dire trascurato secondo voi mi sente mi sente chi no 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 non ti senti stava prendendo il culo per il culo il cane di di marzo ma in una maniera incredibile e quindi abbiamo colto alla sprovvista come se dire dobi dammi il calzino beh sì sì effettivamente e cosa è successo io faccio io faccio le quattro e mezza tutto porco dio porco dio per dire tranquillo perché c'era un attimo mi faccio sarta la madonna siamo rimasti tra di noi e mi sento un attimo più tranquillo ok vi faccio vedere una cosa tranquillo ecco ecco l'ho la custata venite leonile no che stai a farti non toccare la mia piccola ok Arturo non veramente la devi smettere a minecraft all'infinito basta giampiero unisciti a me a toccare la mia piccola ma ba raga veramente ve ne prego cioè lo trovo su tiktok già di mio questo è veramente un bel tramonto ragazzi oggi staremo oggi staremo sul lago pancia leggermente visibile di aiutare le persone che provano a denunciare queste cose ok ma donna Arturo ma che hai fatto oh ma che ti sta a inventare ma non è vero ma che cazzo sta a dire ma non è vero prima devi moltiplicare quello che c'è stack che è moltiplicato da parentesi rincoglionito ma non è 21 è di io 7 ma che è che donna che cazzo e anche scrive i libri ok la risposta è giusto pure Zanone però vi posso difendere dicendo sta cosa io c'ho tre video su Staglio non si è eliminati per colpa di Zano che ha fatto? che ha fatto? non lo so che c'hai fatto Cristian? io due su tre su Asabri Gamer ma vabbè c'ho cose e come vai quella fa? no 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 dai 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 ragazzi torniamo al dissing no ma guarda che noi alla fine è buon'aria perché poi alla fine fine noi se ci sentiamo mo ci sentiamo oh come sta tu via come sta tu via ma si allora in questi giorni in cui mi sono riposato ho capito che Franchino il criminale è uno sfigato di merda è veramente una persona triste quindi ce lo possiamo levare dai coglioni completamente ormai è veramente triste porco dio cioè vi giuro sparatemi se mi ritrovate come tipo Franchino ormai c'etemi dovete tagliare la gola e se non me la tagliate non penso che siete fan veri eh ve lo dico vi avverto subito cioè me la prenderei tipo mega troppo mi darei il volante chi ha usato scrivere nella mia chat col verificato professore tocca non scrivere a cosa non dobbiamo scroccargli 5 sub eeeh tocca andare a fare un salutino all'amico dove è chiatato gogeta super saian 4 arriva eh però non la ragazza non arriva invece quello è il problema curva sud grazie per le 5 chittate benvenuti benvenuti a tutti ragazzi grazie davvero per mandare avanti il mio sogno è una roba allucinante cioè il fatto stesso che io possa pensare al mio sogno e nel caso contami eccoci qui le bestie di 5m mastercraft ben tornato abbassa un attimino il volume ragazzi nel caso anche se in realtà descrizione di ferite le bestie di 5m le bestie di 5m eccole qui sono arrivate l'abbiamo triggerate via 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 No, frate, ma chi ha fatto la soffiata? Frate, ma sono quattro volanti. Secondo me è Rosicone ha fatto la soffiata. Cioè, Rosicone, ma dai, ma è me che i sordi ci ha dato. Siamo coni di ghiaccia. Ho rapito il loro. Perché abbiamo la formazione con scritto. Sai quando arriva la grafica, no? Bellissima, in sovraimpressione. Abbiamo Negro, Negri, Nanni. Poi abbiamo Masella, probabilmente. Cavoranesi. Merda. Merda, certo. Non volevo avvicinarlo. Bella rapinozza. Dobbiamo dare una mano... Eh, se mi vorrei farlo Pacific. Però il problema è che ci serve un bel gruppo e delle armi. Però in realtà... Porca d'orco Dio! Porca d'orco Dio! Bastardo di Cristo, che caca Cristini, porca Dio! Mi sono cacato in vano. Non mi sono cacata addosso. Ehi, ma sbaglio? O era Greenbound? Non fa ride, non era proprio...